pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa quattordicesima domenica del tempo ordinario incontriamo il meraviglioso inno di lode che gesù eleva al padre si tratta dell'unica preghiera di gesù che riportano i vangeli sinottici è un inno meraviglioso che noi potremmo scomporre in tre diverse strofe che evidenziano tre diversi movimenti nel testo noi tuttavia lo leggeremo alla luce di una domanda che possiamo cogliere dal versetto 29 come posso trovare un po più di pace nella mia vita come posso ristorare un po la mia anima vediamo un po anzitutto guardiamo il contesto matteo ci ha appena detto nel paragrafo precedente che gesù è stato rifiutato snobbato dalle benestanti città sul lago di tiberiade corazzin bezzaida cafarnao gesù proprio in questo contesto tripudia di gioia ed eleva questa benedizione sapendo scorgere proprio in questo rifiuto l'attuarsi del disegno del padre prima di capire insieme il perché mi piace evidenziare due punti che ci danno già due primi colpi di luce alla nostra domanda uno l'atteggiamento di gratitudine imparare a lodare ringraziare il signore per ciò che si ha si è e si vive quante volte diamo tutto per scontato e riduciamo anche il nostro rapporto con dio una serie di domande no partire dalla gratitudine tutto è dono tutto è grazia e gesù per di più ringrazia e loda il padre perché proprio in quella difficoltà scorge l'attuarsi di un disegno d'amore più grande ecco per aver pace è importante anche coltivare uno sguardo benevolente sulla realtà capaci cioè di cogliere il bene nascosto anche nelle situazioni più difficili è chiaro tutto ciò è frutto di un cammino con gesù e in una comunità cristiana non è semplice ottimismo cioè vedere il mezzo bicchiere pieno ma saper guardare la storia con occhi provvidenziali cioè scoprire che ad esempio dietro ogni prova c'è un'occasione di crescita dietro una sofferenza c'è una possibilità di incontro più profondo con cristo di dono maggiore di sé dietro persino un errore c'è una scuola di vita una lezione da imparare dietro un peccato che dio non avrebbe voluto commettessimo c'è una occasione per fare esperienza di misericordia insomma in ogni situazione c'è un potenziale tesoro nascosto e se ancora portiamo dietro delle recriminazioni dei lamenti forse perché non abbiamo ancora trovato il tesoro nascosto proprio in quegli episodi da dove partire penso che una domanda ci aiuterebbe anziché dirci perché proprio a me iniziare a chiedersi ma cosa posso imparare da questa situazione come mi può servire per amare di più andiamo avanti siamo nella prima strofa e gesù loda il padre perché perché gli è piaciuto rivelare i suoi misteri ai piccoli e li ha nascosti ai dotti quindi qui abbiamo un altro spunto bello per trovare pace è importante coltivare la piccolezza chi sono i piccoli non sono le persone infantili neanche quelle con poco quoziente intellettivo e neanche soltanto i bambini i piccoli sono tutti coloro che nello specifico sanno accogliere gesù sanno fidarsi e affidarsi a lui sono tutti coloro che a differenza dei dotti e dei sapienti orgogliosi cioè di tutte quelle persone che pensano di risolvere la vita a colpi di sapienza umana che si credono autosufficienti o autoreferenziali sanno accogliere e riconoscere in gesù il figlio benedetto del padre sono coloro che si fidano di lui e delle sue parole sono coloro che coltivano un rapporto profondo con lui e che proprio per questo vengono introdotti nel mistero di dio come gesù ha detto nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare ecco sia qui questo conoscere che nel mondo biblico indica una relazione di intimità di conoscenza amorosa chi è piccolo chi si fide si affida a gesù chi coltiva il rapporto con lui conosce sperimenta sempre più profondamente il mistero d'amore di dio ed eccoci alla terza strofa che è un po il culmine gesù che cosa ci dice venite a me voi tutti che siete affaticati oppressi e io vi ristorerò ecco invita ad andare a lui ad ascoltarlo obbedirgli a camminare con lui e ci dice che lui ci ristorerà è gesù la fonte della pace e poi gesù ci invita a prendere il suo gioco sulle spalle a vivere cioè uniti a lui seguendo la sua parola facendo nostro il suo stile di vita vivendo secondo la legge dell'amore e infine cosa ci dice e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime miei cari quante perdite di pace se mancano mitezza e umiltà cosa sono la mitezza e l'umiltà la mitezza di per sé non è la remissività né la rinuncia alle proprie idee il termine praus significa affabilità gentilezza assenza di violenza e quell'atteggiamento proprio di chi sa dire la verità con carità e anche quando è necessaria la dovuta fermezza rinuncia ad ogni forma di collera di sdegno di arroganza prepotente di chi sa quindi dominare la propria forza interiore che è libera da sé dalla difesa del proprio ego e che ha a cuore profondamente la verità e la carità e poi abbiamo l'umiltà gesù dice imparate da me che sono umile di cuore a livello umano potremmo dire che l'umiltà è la consapevolezza di sé consapevolezza dei propri pregi e dei propri limiti senza identificarsi né con gli uni né con gli altri frutto del rapporto con dio davanti al quale ci si scopre piccoli e a fianco degli altri senza mettersi né sopra gli altri vedi la superbia né sotto vedi mancanze di autostima e frustrazioni nel caso di gesù c'è anche qualcosa in più padre cantala messa diceva che l'umiltà in gesù consiste anche nel suo farsi piccolo nel farsi piccolo per amore per innalzare e servire gli altri egli che era nella forma di dio la seconda persona della santissima trinità si è spogliato di tutto e si è fatto uno di noi si è fatto piccolo per salvarci e renderci come lui e ogni giorno continua a farsi piccolo e pur di stare con noi e in noi scende sull'altare nel sacramento dell'eucaristia quest'idea affascinava san francesco d'assisi che diceva guardate fratelli l'umiltà di dio la persona umile dunque la persona consapevole di sé capace di mettersi a servizio degli altri per elevare gli altri ora miei cari nella vita di ogni giorno noi possiamo capire a che punto siamo con la mitezza e l'umiltà soprattutto quando veniamo messi alla prova e quando vengo criticato punzecchiato o elogiato è lì che si vede quanto sono mite o quanto sono umile perciò per coltivare queste attitudini meravigliose oltre al fondamentale rapporto con cristo e cura della vita interiore quindi la preghiera e i sacramenti è importante imparare a sfruttare le piccole grandi occasioni quotidiane che abbiamo per esercitarci in esse ad esempio imparare a non rispondere colpo su colpo allenarsi a dire le cose in modo gentile non arrogante lasciarsi criticare senza alzare subito i muri della difesa di sé imparare ad accettare pazientemente le piccole umiliazioni che possono arrivarci non inorgoglierci per i complimenti per le cose che riusciamo a fare ma lodare il signore andare avanti e dall'altra parte non deprimerci per gli errori ma saperne fare una scuola di vita e concludo con una scena che manzoni ha illustrato nei promessi sposi in cui padre cristoforo si reca a chiedere perdono alla famiglia della persona che aveva ucciso in duello prima di entrare in convento tutta la parentela si era pomposamente schierata per rendere l'atto del frate il più umiliante che fosse possibile ma al vedere arrivare il frate con atteggiamento dimesso gli occhi rivolti verso il basso che si prostrò e chiese umilmente perdono a tutti la boria venne meno e uno dopo l'altro gli si accostarono e scoppiarono in un pianto in un abbraccio di riconciliazione facendo a gara nel manifestargli segni di rispetto sono quei piccoli grandi miracoli resi possibili dall'amitezza e dall'umiltà chiediamo allora al signore che possiamo portare questi piccoli spunti per trovare un po più di pace nella nostra vita imparare coltivare un atteggiamento grato imparare a scorgere il bene in ogni situazione coltivare un atteggiamento di piccolezza sapendosi fidare e affidare a gesù parando da lui che è mite e umile di cuore che il buon dio vi benedica tutti pace e bene